Le immagini sono reali. L'obiettivo di una telecamera di videosorveglianza immortale ai ladri in azione a Montoro. Un colpo dietro l'altro, un comune nel mirino di bande organizzate dove la conta dei ride si è persa. Dopo Caliano è ancora una volta la frazione San Pietro negli obiettivi dei malviventi. A finire nel mirino questa volta è stato il parco dei Pini. Dal video si vede quanto accade. Frame dopo frame, in tre incappucciati, hanno fatto irruzione in due villette e rubato anche due auto parcheggiate. Il video è riportato dal free press dentro la notizia. Si vede con quanta disinvoltura i malviventi entrano in azione quasi spavaldi. Da due mesi non c'è pace nella zona e il filmato di pochi giorni fa immortala l'ennesimo furto. Hanno prima ispezionato la zona e poi con tutta calma sono passati all'azione. Hanno scavalcato il cancello e forzato le finestre. Il bilancio del nuovo colpo è di due auto rubate e preziosi. Amaro risveglio per i proprietari che si sono trovati di fronte le loro case completamente a suo quadro. Ora il video al vaio dei carabinieri della stazione di Torchiati, ex Montoro Superiore. L'esasperazione in paese è tanta. I raid si sono susseguiti in un escalation senza fine e senza esclusione di colpi.